Oggi parliamo del camion Tesla, poi i prezzi dei supercharger che hanno subito una leggera modifica e poi di un nuovo aggiornamento già in distribuzione. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla! Oggi cominciamo con il Tesla Semi, il camion Tesla. Avevamo già parlato tempo fa della costruzione effettiva della fabbrica in Nevada. Attualmente c'è una linea di produzione prova, chiamiamola così, quella dove hanno prodotto i primi camion consegnati un anno e mezzo fa per continuare la sperimentazione. Ovviamente parliamo di Stati Uniti. In questa foto vediamo veramente un bel numero di camion pronti probabilmente per essere consegnati. Quindi vuol dire che intanto la linea di produzione prova, chiamiamola così, sta cominciando a sfornarne un bel po'. Probabilmente significa che Tesla è davvero pronta a commercializzarli. Inizialmente in piccoli numeri e poi quando sarà pronta la fabbrica dedicata, che è proprio di fianco a dove Tesla costruisce i motori e le batterie appunto in Nevada, a Sparks. Insomma, ne vedremo un bel po' e vi assicuro che sarà una grande rivoluzione. Ora parliamo di Supercharger perché un po' in tutta Europa e non solo, perché ho visto anche variazioni sia in rialzo che in ribasso, anche in alcuni Supercharger in Canada, per esempio, c'è stata qualche variazione di prezzo. Ora io così a caso ho preso qualche Supercharger in Italia. Io sinceramente non faccio molto a caso ai prezzi dei Supercharger perché quando mi capita di fermarmi, comunque avendo la ricarica gratuita non mi appare neanche il prezzo quando finisco la ricarica. Però ecco, se voi li utilizzate e di solito giustamente fate caso ai prezzi, fatemi sapere se sono aumentati. Ecco, secondo me di qualche centesimo sono aumentati. Adesso vi faccio vedere qualche esempio. Forte dei Marmi, 46 centesimi o 51 nelle quattro ore, quelle di prezzo più alto. Firenze e Campi Bisenzio, tra l'altro nuovo, inaugurato forse un mese fa, 47,52. Fidenza rimane molto economico. Qui mi fermo, mi è capitato di fermarmi anche ultimamente, 43,48. Insomma, se usate molto i Supercharger, magari fateci caso perché i prezzi potrebbero essere cambiati. E ora parliamo rapidamente di un nuovo aggiornamento software, il 2024.32.3. Insomma, io ho ricevuto ieri sera il 26.8 ed è già in distribuzione quello successivo. Lo so che adesso qualcuno nei commenti mi scriverà Io sono ancora al... Ragazzi, ci vuole pazienza, quindi non preoccupatevi. Intanto ringrazio Erasmo che mi ha mandato queste foto. Lui ha una Model S ed effettivamente due funzioni in particolare riguardano solo Model S Refresh, Model X Refresh e la Model 3 Island. Ma allora, andiamole a vedere molto rapidamente. Allora, la prima funzione che dovrebbe riguardare tutte le auto è riguardo alla modalità Sentinella e dice che quando la modalità Sentinella rileva un evento accende leggermente, lampeggia leggermente le luci. Allora, qui vi racconto un attimino quello che succedeva un paio d'anni fa. Quando la Sentinella veniva attivata, accendeva proprio le luci. Poi, insomma, qualche utente si è un po' lamentato perché poteva essere controproducente perché magari qualche malintenzionato o anche no, però si avvicinava alla macchina partivano le luci e la persona che era magari vicino alla macchina o altri erano attratti dall'auto, cioè aveva proprio il risultato opposto e quindi Tesla ha deciso di togliere questa accensione dei fari così immediata però sembra che ora abbia deciso di accendere in maniera un po' più tenue quindi andremo a vedere come sarà questa nuova funzione. Io credo che la cosa migliore dovrebbe essere nel menu scegliere le reazioni della Sentinella. Ecco, semplicemente questo. Quindi, Elon, visto che guardi i lampi, ecco, dacci la possibilità di scegliere magari il lampeggio delle frecce oppure una sorta di personalizzazione, una sorta di escalation di quello che vogliamo che faccia la Sentinella. Altro aggiornamento riguarda l'apertura del bagagliaio senza mani e questo riguarda, come dicevo prima, solo alcuni modelli. Questa è una funzione che è stata introdotta poco tempo fa. C'è un miglioramento perché è possibile escludere casa quindi se voi magari avete la macchina in garage oppure nel vialetto di casa o nel giardino, insomma, e vi avvicinate col cellulare per fare qualcosa dietro all'auto ecco, se state lì in zona potete decidere di non far aprire in automatico il bagagliaio esattamente come, per esempio, la chiusura automatica o la Sentinella si possono escludere nel parcheggio di casa. Invece, altra grande novità che mi fa ben sperare per un'altra cosa che adesso vi dico c'è l'apertura del bagagliaio anteriore il cosiddetto Frank esattamente come per il bagagliaio posteriore quindi senza mani questo avviene senza nessun sensore ma con l'uso delle telecamere quello che mi fa ben sperare è che, come ben sappiamo, a parte il Cybertruck tutte le altre auto hanno il bagagliaio anteriore ad apertura e chiusura manuale ora, questa funzione che effettivamente lo rende estremamente più utilizzabile sarebbe perfetta con l'apertura e la chiusura elettrica quindi esattamente come quello posteriore sai mai che Tesla stia pensando di fare un kit ufficiale per rendere il Frank elettrico? ma io lo spero sinceramente perché, vi dico la verità io lo comprerei al volo perché se fosse io lo uso per i cavi in generale o quando mi serve mettere qualcosa ma se fosse elettrico effettivamente lo utilizzerei molto ma molto di più quindi, ancora, io ho visto che guardi i lampi fai sto kit per fare il bagagliaio anteriore elettrico e ora qualche saluto con consegna e ringraziamento oggi facciamo tutto e comincio con Mirko che ha ritirato la sua Model 3 Island bianca e ha voluto anche supportare il canale per festeggiare e mi ha scritto ecco il mio rinnovato supporto al canale il giorno del ritiro grazie ancora per i contenuti figurati Mirko, grazie a te davvero tanto per il supporto e per aver voluto condividere questa foto del tuo ritiro di oggi e anche Nicola ha ritirato la sua Model 3 ha voluto supportare il canale per festeggiare grazie mille e mi ha scritto grazie Fabrizio i tuoi video sono ormai un appuntamento quotidiano e da Neoteslano li guardo sempre con estremo interesse e allora eccolo qui con la sua nuova Model 3 Grigio Stealth beh, complimenti davvero tanto e grazie mille per il supporto bene, questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e non mancate alla prossima puntata perché ho già un altro paio di notizie veramente, veramente interessanti ci vediamo alla prossima allora ciao ciao